Il Cardinal Tagli, l'Arcivescovo di Manila, è qui ospite quest'anno del Festival Francescano, un incontro sul tema delle periferie, il Vangelo nelle periferie. Ecco, è l'invito che il Papa Francesco sta facendo dal giorno del suo insediamento, è quello di andare verso le periferie. Quali sono queste periferie nelle quali annunciare il Vangelo? Secondo il Santo Padre, nei vari discorsi e anche nell'essortazione apostolica, Evangeli Gaudi, le periferie non sono semplicemente spazi geografici. Le periferie sono persone, persone abbandonate, poveri e marginate. Mi sembra che un settore molto importante della periferia, i cattolici cristiani allontanati dalla Chiesa, purtroppo, e la Chiesa deve uscire per incontrare queste persone, non per motivi di conquista, ma solo per dare la luce del Vangelo in una maniera semplice, incontro umano. E San Francesco, il suo insegnamento rispetto a questo tema, in che modo si coniuga, in che modo si collega? L'insegnamento di San Francesco rispetto a questo invito di Papa Francesco? Ma secondo la mia conoscenza di San Francesco, la capacità di dialogare con tutti, specialmente con le persone nella periferia, è radicata nel suo amore a Gesù incarnato. Il vero figlio di Dio è diventato uomo, ma questa devozione di San Francesco al Dio fatto uomo, per me è il segreto, la chiave per andare alla periferia, incontrare Gesù nelle altre persone. E nel nostro tempo dobbiamo imparare di San Francesco, la spiritualità, il significato permanente dell'umanità di Gesù Cristo, che si trova anche nell'umanità, nelle persone, nella periferia.